Gli imperiali vogliono aprirsi un varco. Possiamo fermarli con le forza blocking se riusciamo a proteggerle. Siamo noi! La nave sta per esplodere! Ho perso un pezzo di ala! Sono fuori il gioco! Difendete le forza blocking! Ricorderà tua truppo! Quei bombardieri TIE non devono completare il proprio attacco! Tutto il fatto!